due dici, vabbè vabbè mi riparo la volta partita il giorno, non è che la dico ma c'è l'aggiornamento, stai attenzione ragazzi eh andiamo qua, vai quindi dici corone e non giocherai mai un mese e beh, il corone che ho fatto oggi, non ti ho fatto in petro, sono forti perché è un mese? un mese 3 un mese una settimana vabbè comunque... ma cazzo ne so, io non vado dove arrivo perché sono un po' alto vado in fondo, vado qua, no? vado dove vada bravo ecco l'arco, ovviamente non poteva mancare vado entra cazzo merda puttana io ho visto che non lo sparo su bene, non lo dico vabbè vabbè, manca l'idea guarda lo sparo guarda guarda c'è uno co' vicino eh, guarda dove c'è il vicino? si sta pure curando no eccolo stardo mi ha quasi ciso cioè no quasi ciso no però si vabbè ma cazzo mi spara tuo figlio di puttana mi ha uccido la donna 4 di vita porca troia faccio pesce no guarda che l'hai ciso capito curami anche a me maledetto capito ma non basta dammi questo non c'ho armi non cazzo non cazzo di armi che cazzo dici corriamoci scemonito vieni take a mesh anch'io ce l'ho risposto comunque ma anche tu però se lo usiamo in due è meglio aspetta ma dove non prima no proprio io ho usato quel cazzo tico ma c'ho giampato c'ho cogesto per andare via no no ma che andare via voglio ucciderli ho capito però ma non c'è più nessuno ma stanno di lastra eh no eh ma aspetta aspetta ci curiamo guarda eh non capita ma non siamo messi male in realtà oh no là c'è qualcun altro di qua chi è che ha sparato qua eccolo sta arrivando sta arrivando ma vaffanculo che mira di merda bastardo non è sceso ma che cazzo eh ma sono andato via eh ma l'avevo quasi ucciso grazie a cazzo guardalo lì ah ma lascia stare lascia stare eh no però eh lascia stare vedi lo non lascia stare è giù davanti anche eh eh sono quello è sempre quello vedi eh è andato dal suo compagno mi sa ah no non è con lui forse è quello eh non lo so vediamo ecco quello lì secondo me è un suo compagno oppure anzi sono sceme guarda che coglioni sono proprio tutti attaccati quelli proprio eh ma ora va tutto eh c'è vado allora dov'è che è? è qua eh non so neanche io dove cazzo mi sta già curando forse che va cazzo ma non adesso maledetto bel salto di un cazzo ormai Ah, lasciato! Ehi Luiz! Ah, non voglio! Ahhhh... E' un copio né, Pio? Un po' confusquillo, Pio? C'è un quadro, ma è? C'è fidu lì? C'è un po' d'altro aare che quando... Vai! ma pinacoli sennò andiamo... pinacoli? ma pinacoli è fuori eh andiamo andiamo verso il centro no eeeh lo vuoi questa? andiamo verso il santuario e lì verso il centro della safe vai però facciamo un po' il giro così vediamo qualcuno di qua no? ho capito però in realtà infatti potremmo andare di qua in realtà però aspetta ora che ci pezzo potremmo andare verso il verso il benzinaglio vedi qua c'è sempre gente quando luttiamo io avrei bisogno di un'arma buona eh perchè non è che... il rattaglio le armi ce l'ho eh eh ho capito però... pensavo che voleva andare a uccidere l'inzani volta mi dici andiamo andiamo adesso... c'è un'arma di merda però... fai apposta lo fai allora... c'è un'arma di push, un'arma di push cioè... eh ma infatti... non mi vuoi scusa... vabbè... scusate... potty... nooo vabbè ma che cazzo... mi viene del benzinaio qua c'è qualcuno... cosa push... vai ti push vai oh... mi trema tutta la visuale... ma che cazzo succede? non c'è nessuno qua, è pazzesco farmi un po' di push ti basta che cazzo dici qui sai di switch e devo venire chi ne dà, oddio caro ma qua c'è ma ma dove erano animato? qua vicino sono vicinissimi sembra però su st'arma come già so che me ne pentirò di averla presa e beh e dobbiamo andare lì e pusharli l'ora dai ma così proprio, allora andiamo con la macchina scusa però se dobbiamo proprio pushar le dai vai ma dove dici? mi si chiudi qua però eh infatti non ci vuole andare ci dico possiamo lo stesso andare però però è meglio che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è l'intesso o che c'è è arrivata proprio qua la colla vediamo io ho questo se vuoi non sono male no no ma io ho il il pre viola lì non sono male usciamo questi dai guardi come se male ma dove sono? andiamo? ma le aspettiamo oh qua qua ha sentito qualcuno ho sentito un rumore ma eri tu che l'hai fatto il rumore? no sei tu forse ho sentito come se c'era qualcuno qua a fianco no ma è stato tu mi sa per forza non c'è nessuno non c'è nessuno qua c'è c'è sempre c'è no non posso essere io a fare vuole il mio camara? eh infatti ecco vedi stanno sparando a quelli a me lei è logico che ci sono le safe da dietro di torte tutti questi qua devono venire qua ah no ma lei è dentro? no non è dentro là eh devono venire qua dopo eh guarda quello faccio il sparo così quasi vabbè eh ormai non lo vado più era lì però da due uomini di qua adesso ti ho detto se riescono a sopravvivere sempre in realtà potremmo andare contro safe e andargli incontro proprio e chiuderli di brutto in realtà andiamo? io vado eh intanto io c'ho le cosa per curare ce l'ho quindi le cure ce le abbiamo che ma dove è che sta andando? vedi che devo andare di qui e non di là dove cazzo sta andando? ah di qua no in realtà devo andare eh devo dirlo se li vedi eh ecco e beh ma dove cazzo? no quello con l'animale l'ho quasi ucciso madonna l'ho massacratissima aaaaa oh una anche qua no quello sta volando forse è quello di cavo massacrato quello che sta volando comunque una ancora qua eh ma io penso che vuoi vedere cosa va comunque da dove va dov'è che? era qua eh era safe però era qui però dove cazzo è? era qui davanti era nooo l'ho colpito se era morto me lo dicevo è morto sono volati verso di qua corri eccolo lì uno lo vedi? oh devo uscire dalla safe eccolo oh di fronte a me dai oh oh salva adesso oh vaffanculo spattuto eh morto c'è un altro? eh lo sapevo che piava la scheda andava via bastardo spare spare che è quasi morto no è bianchissimo spara no ma chi cazzo è? perché non si fa il cazzo suo e quell'altro? spare gli è dai un colpi manca oh non impari infatti i cazzi tuoi detto di te ma non era quello che mi ha sparato aspetta ho contattato per lì aaaaaaah c'è altra gente ancora lascio di la non lo so non l'ho visto ma non lo vedo quello di anima qui eccolo eccolo minchia 43 ho fatto ce la sono un po' distante che cazzo fai? aspetta non andai troppo avanti si un attimo una dura mica d'ho detto non andai troppo avanti e ci sei andato addosso ma sei scef io lo so io sto sparando io sto eh niente assolutamente which aspetta devo guurami fermo 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 intanto c'ho il coso c'ho eh ma io non ce l'ho eh ma io ce l'ho vabbè cammina intanto corre piglia piglia meno le munizioni sentire il corpo la lascio addio quello qua eh anche quello vuoi un animale ecco gli altri due manco erano sempre dove eravamo prima no ma che dici ma sono morti tutti quelli ma dove sono andati quelli che erano là erano lì eh ma anche qua c'è quello per l'animale eh te lo dico ma guarda dove sono andati quelli piuttosto ma erano lì dove cazzo sono andati come hanno fatto scomparire così allora me che cazzo fai che è l'ho lì l'ho lì che cazzo ma c'è il parabén di me poi nooo mi hanno beccato no l'ho perso l'ho appena no ce l'ho dovuto buttare via no l'hai perso no perché ho dovuto pigliare ecco mi ha pure colpito col bastardo e allora la ce ne sono due la ce ne ho uno eh ma la ce l'hai per andare via qualcosa si ho dovuto pigliare la nuvola infatti però l'hai lasciato il coso per la nuvola devo andare via eh sai dove devo andare no qua si comunque ho sbagliato a buttare il coso dovevo buttare la metriaglietta invece del aspetta di buttare ah guarda che là c'è qualcuno eh ma lì c'è qualcuno però ma cosa facciamo si ma io vado adesso eh dentro c'è spuglio dici che c'è qualcuno non lo so io vado vai 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 ma come devo volare secondo te ma non c'è bisogno di dare la nuvola se c'è il no no c'è bisogno dentro c'è spuglio eh dentro c'è spuglio dio cartestone vedo c'è scende cazzo ma qua devi mostrare senza sparare non stiamo versi bene con la vita capito però c'è un po' di non ho sempre io dietro appena eh eh no se più davanti no ma sei tu che vai avanti ma ancora non hai capito sta cosa ma io vedo se c'è qualche ma tu dietro come fai a sparare se non vedi niente ma sei tu che ti metti davanti eh comunque capito però buonanotte oddbock sai che ti ha colpito no non ci sono i barili qua merda eh siamo messi così siamo in cinque comunque eh grazie al cazzo secondo me c'è qualcuno lì dentro nelle cose là vabbè veramente i tuoi barili ci sono qua eh se vieni ce li facciamo se no me li faccio da solo no no fate di tutto 5 5 eh dove cazzo sono scosti sti maledetti eh si questo cazzo io lo so dove cazzo stai aspettando che qualcuno inizi a sparare eh quel cazzo eh quel cazzo eccoli ma quello ci succede io eh forse è quello da su no quelli sono in due eh ecco ecco dovemmo ma approfitta vai che sono ucciso vai approfittane eh uno l'ho massacrato anch'io l'altro eh però eh però anch'io l'ho massacrato all'alto un po' eh colpito ancora se gli sbagli dava la parte io non lo vedo dovresti svederlo tu dava la parte aspetta quello è bianchissimo merda no il fuoco mi hanno buttato bastardi oh l'ho battuto uno eh uno l'ho battuto eh allora vado vengo anch'io allora eh non so dov'è però cosa è successo addio bravo non ce ne ho bisogno vieni come vince